Concerti, laboratori e giochi, ma soprattutto birra. Si è conclusa ieri la Festa dell'Orzo, tradizionale appuntamento estivo per Pedavena, che, come ogni anno, ha visto un importante afflusso di curiosi. Una domenica soleggiata e arricchita da diversi appuntamenti per intrattenere fin dal mattino, ma il cui nodo fondamentale è stato nel primo pomeriggio con la sfilata e l'apertura della botte. Presente, oltre al sindaco, il presidente della provincia. Forse chiamarla festa è diminutivo, perché questa è più di una festa Pedavena, è un'unione che c'è tra un comune, una comunità e una fabbrica, che si rinnova dopo 127 anni. Pedavena vuol dire birra, vuol dire tantissime attività, tantissimi pedavenesi hanno lavorato all'interno della fabbrica birra Pedavena. È una festa molto sentita. Dopo un weekend ricchissimo, tra serate e evento e attività per tutte le età, l'ultima giornata ha lasciato spazio al contesto storico e tradizionale. I quattro quartieri del Palio hanno regalato un'anticipazione della prossima sfida delle Cernide e il gruppo folk di Cesio Maggiore ha intrattenuto il pubblico nei minuti precedenti l'apertura della botte, tradizione per celebrare il nuovo raccolto e per la quale in tanti hanno atteso in fila un bicchiere della birra, in edizione limitata creata appositamente per l'evento. Nel parco, immancabili protagonisti, i mercatini. Importante ricordare anche il valore dei prodotti della provincia utilizzati per la birra. Anche quest'anno abbiamo rinnovato il contratto, che vale per due anni, che la birreria ci richiede il prodotto qui locale. E oltre che fare il prodotto locale, noi ci teniamo anche per la cura del territorio e fare le rotazioni del terreno, del maestro e così. Un evento voluto dalla stessa fabbrica birreria Pedavena e supportato nell'organizzazione, dalla Proloco e dall'amministrazione locale per concretizzare il rapporto tra la città e uno dei suoi poli di attrazione turistica ed economica più importanti. Soddisfatto il sindaco. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, soprattutto nella serata di sabato, col concerto della Radio Company, ma anche la domenica, dove con la sfilata e con l'apertura della botte delle 5 abbiamo ottenuto una quantità di persone che è stata oltre le aspettative.